Lunga, chiama Otachi, questa è un intermedia, una spada intermedia, il Bugei è l'arte, lo studio delle arti marziali giapponesi, il saorai, il 9 arti marziali, in questo caso vedremo alcune esercizazioni fatte appunto con la spada giapponese oridiana. Gli esercizi sono poi definiti con una o al massimo due, un'estrazione e un rinfodero, infatti vedete che in pratica una volta che la spada è sfoderata il colpo deve essere letale e subito dopo segue a pulire l'infodero, che si chiama il botto, mentre l'estrazione si chiama il patto, è una spada molto pesante e difficilissima da maneggiare, difficile da maneggiare. Grazie. Ogni stile ha poi alcune particolarità. Grazie a tutti. A prestito. A prestito. A prestito. Saludio a presto. Grazie. Buonanese.